Benvenuti sul nostro canale, questa è la nostra prima unboxing. Come potete vedere abbiamo preso Tekken Torment 2, la VR Tekken Edison. Ma non perdiamoci in chiacchiere e passiamo subito all'unboxing. Come potete vedere, questo qua è il davanti, il retro, e vediamo il contenuto. Naturalmente questo è il contenuto di Tekken Torment 1, questo gioco è uscito il 13 settembre nel 2012, eccoci, e vediamo dentro cosa contiene. Allora, dentro abbiamo, vediamo un po', abbiamo il CD del dietro alle scene, poi abbiamo questo qua che cos'è, un po', ah, questo qua sono le original soundtrack e le tracce remixate, come potete vedere sono specie di dischi in vinile, infatti, caspita, sono 49 tracce, come potete vedere, 49. Andiamo avanti, qui abbiamo la steelbox, molto bella devo essere sincero, eh. con davanti Zincasama, eccolo qua, Cristi Monterio e Lili, molto bella. E dentro troviamo il contenuto di solito manuale, due foglie, uno semi-cidi come al solito, ecco qui, naturalmente c'è anche il CD, poi cosa abbiamo anche? il passo online, suppongo che sia, ho i contenuti aggiuntivi. Sì, sì, i contenuti aggiuntivi sono. E poi la solita pubblicità, il cavolo, vabbè. Passiamo al pezzo forte, che è l'artbook. Come potete vedere, eccolo qui. Qua abbiamo tutti i personaggi, che belli, che sono Anna Williams, Asuka Kazama, tra l'altro il mio personaggio femminile preferito, insieme alla Montero, Bob, che tra l'altro odio, Bruce, Cristi Montero, appunto, David Jean, Gary, Jacksei, Sincasama, eccoli qua. Tutto così, eh. Lars, Leo, abbiamo Nina Williams. Roger, molto bello, Alisa, guardate che bello quello di Alisa. Tra l'altro nel gioco sono presenti la base di 49 personaggi, davvero tantissimi, per un picchiaduro. Mi sembra anche più di 20 arene. Non lo so perché ancora non l'ho giocato, quindi non posso avere la sicurezza. a meno da quello che ho sentito. Qua abbiamo altri. Giulia. Molto belli. Qua invece cosa abbiamo? Ah, qua abbiamo i disegni, o no? Sì, sì, abbiamo qui i disegni. Mamma mia, che belli che sono questi qua. Guardate qua che bella, che Montero. Sono davvero stupendi, mamma mia. È che, guardate qua. Lili, abbiamo Azuka, anche Ogre, ecco qua. Roger, Lars, mamma mia, questo qua è spettacolare. Guardate qua, anche i colori utilizzati. Veramente è una cosa stupenda. Finisce di aver comprato qua questo artbook. Veramente è una cosa assurda. Mai visto una cosa sì, una cosa simile. Tra l'altro è un mattone. Guardate quante pagine ci sono. Un mattone proprio. Grazie per aver guardato la nostra prima unboxing. E ci vediamo al prossimo video o recensione. Magari su questo gioco.